Il titolo del dipinto è Pensieri Stellati. L'autore è Pietro Di Segna, realizzato con tecnica d'olio su tela, misura 138 x 96 cm, una sedia gialla, una porzione di abito blu, uno strumento musicale, un profilo, un ritratto, con sopra tre cappelli disposti come tre carte da gioco, due cuori o un cerchio a rossi, un rombo, un quadrato dei ricci blu che ti vengono incontro, una bocca e un occhio che ti guarda. È una costruzione architettonica che poggia su un pavimento viola e concavo che sembra in movimento. A destra un fondale verde scenografico in una prospettiva indipendente e due cieli stellati, una con stelle gialle e una con stelle bianche. Tutta la composizione richiama il movimento incessante del pensiero, quell'attenzione che rimbalza da un'idea nuova a un ricordo, dall'immagine di un oggetto all'ascolto di una musica, da una persona che passa a un desiderio che affiora. La giostra del pensiero che crea il tempo si ferma solo attraverso l'occhio che guarda e percepisce se stesso.